L'Italia segue gli Stati Uniti come un cagnolino, ma per la pace occorre la mediazione, a dirlo è il segretario nazionale di rifondazione comunista Maurizio Cerbo. Rifondazione in Parlamento a quattro esponenti che hanno aderito dopo aver lasciato il Movimento 5 Stelle. Questi hanno votato no all'invio di armi e alle sanzioni alla Russia. L'Ucraina ha diritto ad autodeterminarsi, dice Cerbo, ma l'allargamento della Nato non consente la pace. L'Italia deve smettere col seguire gli Stati Uniti come un cagnolino. Le sanzioni alla Russia danneggiano la nostra economia e non servono alla pace. Come non serve alla pace l'invio di armi. Noi siamo contro Putin, che è un anticomunista, un reazionario, amico della Meloni e di Salvini. Non abbiamo nulla a che fare con gli oligarchi russi che si sono arricchiti come quelli italiani con le privatizzazioni delle ricchezze comuni. Ma diciamo che è legittimo che la Russia chieda che la Nato non arriva ai suoi confini perché la Russia ha perso nella Seconda Guerra Mondiale 27 milioni di morti. È una richiesta legittima. Se ci fosse un'alleanza russa col Messico, gli Stati Uniti lo bombarderebbero immediatamente. Va riconosciuta il diritto all'autodeterminazione dell'Ucraina, ma al tempo stesso ha anche riconosciuti i diritti di una minoranza di lingua russa che conta il 40% della popolazione. Rifondazione questa mattina è stata in presidio a Pescara per dire basta ai rincari. Bisognerebbe utilizzare le risorse a disposizione per bloccare gli aumenti invece di destinarle alla spesa militare. Le parole di Acerbo. L'aumento delle bollette è cominciato per la speculazione prima della guerra e conseguenza della privatizzazione del settore energetico e della liberalizzazione del settore energetico che solo noi di Rifondazione Comunista contrastammo. Si può fare, il governo italiano potrebbe decidere di bloccare gli aumenti delle bollette, degli idrocarburi e dei generi di prima necessità. Questo è possibile, così come è possibile intervenire reintroducendo uno strumento di protezione dei salari e delle pensioni rispetto all'inflazione. Un tempo si chiamava Scala Mobile. Col PNRR noi ci indebitiamo per finanziare le grandi imprese, aumentiamo le spese militari che raddoppieranno 104 milioni di euro al giorno, ma si continuano a tagliare scuola e sanità. Grazie a tutti.